Marco Camandona, direttore del Tour de Ruitor, è arrivata la 19esima edizione, l'ultima edizione già vi aveva messo alla prova con un tempo un po' difficile, quest'anno invece sono i P&D che ti danno qualche preoccupazione. Facciamo un passo indietro, ovviamente noi abbiamo il Tour de Ruitor che è una gara a tappe, tre giorni di gara nella nostra Val Grisange, nel Comune di Arvia e Val Grisange, noi abbiamo un terreno così vario che fortunatamente possiamo veramente far divertire gli atleti che verranno a fare la nostra gara. Questo divertimento in questo momento diventa per noi una grossa preoccupazione perché ovviamente ha nevicato molto, soprattutto in questi ultimi giorni, i tre giorni di gara farà bellissimo ovviamente, abbiamo pregato tanto, abbiamo un filo diretto verso l'alto e per cui sicuramente farà bello. Nello stesso tempo con tanta neve dobbiamo gestire al meglio questa neve e gli atleti saranno tra i migliori al mondo per cui la preoccupazione di non essere in grado di fare una gara del genere non c'è, bisogna solo darle le capacità e la convinzione di portarli a fare una bella gara alpinistica con i nostri obiettivi che sono quelli del divertimento. Tu sei appena arrivato da un sopraluogo, come hai trovato la montagna? Ovviamente oggi, beh, era bello, una bella giornata, però ha fatto una grossa nevicata ieri, più di 30 centimetri. Come dicevo prima, abbiamo alcune zone off-limiting dove non si può andare, alcune zone invece sono veramente divertenti. Oggi sono andato verso la punta Felema, abbiamo trovato delle condizioni buone fino a metà e poi a un certo punto dove verticalizza ovviamente i pendii sono molto carichi, per cui bisogna veramente gestire al meglio questa situazione. Senti, mettiamo che hai 20 anni, vuoi partecipare alla Grand Curs, è la volta del Tour Tour Tour, che compagni sceglieresti? Vabbè, in base alle mie capacità ovviamente, quello che io dico è l'avventura delle nostre gare, della Grand Curs, che si parli della piramenta, che proprio in questi giorni, che si parli della Damelo, che si parli del Tour Tour Tour, bisogna veramente avere un compagno vero, un compagno che non è solo l'obiettivo di andare forte, ovviamente c'è, è una gara, siamo qua per correre, ma nello stesso tempo è il divertimento che deve esserci e l'affiattamento di squadra. L'affiattamento di squadra e la scelta giusta del compagno determina anche il piazzamento, questo è ovvio. Senti, quali sono le cose che ti stanno dando pensiero in questi giorni? Qual è il pensiero? Quel pendio? Quella salita? C'è quella discesa? Stacca un po'? Noi sicuramente abbiamo due o tre zone che sono non semplici, quattro anni fa, proprio in questo periodo, in condizioni primaverili, perfette, due anni fa abbiamo trovato la nebbia e il caldo e quest'anno troviamo l'inverno, l'inverno vero. Non abbiamo paura delle nostre capacità, la conoscenza c'è, le capacità c'è, c'è una grande squadra che lavora dietro di me, bisogna pensare 18 super tracciatori, super esperti, super conoscitori del terreno, abbiamo più di 100 volontari che lavorano per noi quei giorni, per cui questo non ho sicuramente paura, bisogna in questi giorni antecedenti, cioè una settimana prima, capire bene dove si può passare e dove no. Tra un corridore di livello della Grand Course, una guida alpina, chi è che ne capisce di più? Ma sicuramente gli atleti sono qua per correre, il nostro obiettivo, il nostro input è di avere il più personale professionale. Molti dei nostri tracciatori non sono guide, ma sono ex atleti che si sono dedicati poi alla montagna e sono diventati delle persone esperte sul terreno. Ci sono anche tante persone, tanti ragazzi, ex atleti che sono diventati anche guide alpine. Questo posso dire che è anche un orgoglio nel nostro organismo avere degli atleti diventati guide alpine e in questo momento sono lì ad aiutare proprio noi. Uno degli orgogli della guida alpina è portare un astronauta in cima all'Everest? Eh beh, sicuramente questo è un bel risultato. Da lì arrivare con l'Everest in tasca è un altro pianeta. Qua parli della nostra prossima avventura, il 10 di aprile partirò per l'Everest con un super personaggio, è un astronauta, una persona che è molto preparata sia fisicamente che mentalmente. Una persona che due anni fa, per caso, tramite una mia conoscenza, si è avvicinata a me e abbiamo iniziato un progetto, un programma insieme di due anni ed i due anni sono stati intensi. Dalla prima passeggiata a Rifugio Torino, Ghidimidi, la più semplice che si poteva, siamo arrivati alle Ganjoras, a Bernina, al Monte Bianco e a Rosa, tra le vie più classiche che ci sono state, dalle cascate all'arrampicata. Due anni di lavoro intenso e adesso siamo pronti al nostro obiettivo. Prima penso al ruito, fuori dal ruito penso che dopo aver organizzato il ruito il prossimo obiettivo che è l'Everest sarà una passeggiata. Senti, mettiamo che io sia di Rimini. Spiegami in poche parole, qual è la differenza quando tu guardi l'Everest e guardi le tue montagne di Arvie, la neve, non vado a dire l'altezza, sappiamo che stiamo parlando delle Alpi e dell'Himalaya, ma se dovessi spiegarlo a un profano, in poche parole, qual è la differenza tra un'Himalaya e le Alpi? Sicuramente il passaggio dalle nostre Alpi, che conosciamo, conosciamo anche bene, dalle vie più classiche alle vie anche più impegnative del nostro Monte Bianco, dai satelliti alle vie più impegnative di Misto, che sono molto affascinanti, perché alla fine ce l'hai qua di fianco e anche delle volte le banalizziamo, ma dici, ma sì, andiamo fino a fare l'inominata, ed è una grande via che porta in cima al Monte Bianco. Però nel stesso tempo, quando dici, andiamo a fare l'Everest, andiamo in Himalaya a scalare, gli orizzonti si aprono, per cui le montagne diventano veramente grandi, di noi veramente piccolini, e solo passo dopo passo si riesce ad arrivare in fondo all'obiettivo, che poi può anche capitare che l'obiettivo, cioè la vetta, non si porta a casa, le problematiche sono centinaia, bisogna stare bene, la meteo, la gestione, per cui capita che, però ecco che avere le montagne qua di fianco ogni tanto, anche belle, si banalizzano, andare in Himalaya apre la mente e apre anche il cuore. Senti, ma in un tuo viaggio nell'Himalaya, ti è mai venuto in mente una visione di dire qual potremmo farla, una gara di sciolpinismo? Beh, ti vado oltre, dai. La Grand Course ha dei grandi obiettivi, noi pensiamo di essere, e i dati ci dicono che nelle nostre gare c'è il numero così ampio di atleti che ci danno fiducia, per cui sono le gare tra le migliori al mondo, il nostro obiettivo prossimo della Grand Course è proprio di andare a fare una gara in Cina, in Cina, sulle montagne dell'Altai, tra la Russia, la Mongolia, e ci sono delle montagne come il Tien Shan e il Mustagata, che sono a 7000 metri lì. Noi andremo solamente a 3100-4500, ma nel prossimo anno, il mese di gennaio, tutti i migliori tracciatori, compresi i nostri del Trudevitor e del Mezzalama, saranno partecipi a organizzare una gara proprio in quei posti. Lui è Marco Camandona, il 23, 24 e 25 marzo sarà sulle pendie di Arvie, lo vedrete lì sicuramente a guardare i pendie e i corridori che non si disperdano troppo. È così. Grazie Marco. Grazie a voi.